Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sono Sorcerus e oggi giocheremo a Edwangers quindi proveremo a vincere qualche partita e d'ora in poi i video di Edwangers saranno più lunghi perchè dopo perchè dopo ogni ogni battaglia insieme a voi vi farò anche vedere una registrata e salvata allora iniziamo questo lo posso prendere facilmente scavando lo metto qui in modo da non colpire il mio compagno di squadra vabbè un po' l'ho preso però fa niente con un colpo di pistola proviamo a teletrasportarci tipo qui oh no mi sa che mi prenderanno oh no va che sono i miei mascoli che potrei usare stavolta beh faccio come prima uso di nuovo qualcosa per scavare non dovrei prendere danno da caduta aspetta che forse ne ho messo e invati quando l'ho fatto ok ecco no l'ho ucciso uno suo compagno uno mio compagno di squadra e io uccidere lui l'altro dice per caso l'altro dice a me non c'è una buona idea se io la piazzo tipo no, prendo solo uno, ho sbagliato vabbè no, dai da quello posso prendere io però forse è un punto di vantaggio anche per me questo lo prendiamo così no, si cadeva nell'acqua che peccato vabbè allora la cosa dice qui sotto sono in vantaggio a loro e mi ha ucciso un altro ora provo a mettermi precisamente sotto di lui oh, preso in pieno è morto o no vabbè usero la pistola quella lui ha 6 di vita anche quello di prima non ha 6 di vita è morto o no è morto o no è morto o no aspetta no, non riesco a sentire solo che così ho paura ho paura che potrei messirmi da solo ok se uso l'aereo devo essere sbettissimo sì buttato nell'acqua ma sono ancora gli altri in vantaggio poi poi ne distrugga quello no 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 perché e va bene ok sono in una posizione davvero scomoda sbaglio qualcosa ho perso vabbè in realtà ho 99 di vita no ma dove mi nascondo buona idea buona idea se dopo tocca a me oh sono in vantaggio e mi ha facilitato le cose come il mio alzio di vita ok ok se non funziona questo ultimo mosso ho perso noi dobbiamo vedere quanta vita il giorno ho perso ho perso faremo qualche vittoria epica che ho fatto fk dov'era qua aspetta un attimo aspetta un attimo che la prendo aspetta quale ha preso ok ok aspetta un attimo e Grazie a tutti E' come un aspettavo che gli mettevano bene la dinamica. E' come un aspettavo che gli mettevano bene la dinamica. E' come un aspettavo che gli mettevano bene la dinamica. Io provavo ad usare la cosa con le frecce ma non la so usare purtroppo. Io stavo provando. Evidentemente non ci sono riuscita. In maniera bianca mi sono reso la mossa. Ora mi rendo conto che avrei potuto scavare in realtà. Io un'altra volta mi sono reso qui. E invece quella lì mi prende. Io non posso fare niente manco con quello. Ah ma c'era qualcuno lì sotto allora. Mi ha aperto un barco per... Non mi ricordo se viene colpita dopo. Io stavo rivolcando il mio compagno e esplodeva anche lui. Mi sono otto di vita agli otto otto. Sì. 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 Si è anche colpita la giola E con un solo pezzo di fuoco Dieci di vita si è tolta Così tanto Così si è tolta Così si è tolta E' un progetto che mi toglie 5 di vita Se mi colpisce ogni turno Ecco Quello si arrende E' un progetto che si è tolta E' un progetto che si è tolta E' un progetto che si è tolta Ragazzi vi chiedete le parole che dicono Le scritte che combagliano lì sopra Sinceramente non lo so neanche io Io qui ci gioco solo perché il gioco è bellissimo E basta Perché poi non capisco niente Di quello che c'è scritto lì Oppure di come parlano Ecco dico questo Ecco ecco il piede E' un progetto che Ok, butto lo risotto Spumi non ho tolto in tempo E risoluto quello E' finita la clip Bene ragazzi, il video finisce qui Voi lasciate like, commentate, condividete il video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo con un prossimo video E ciao!